sono mister elmet sono stato denunciato per minacce danneggiamento di proprietà e diffamazione aggravata e continuata a mezzo stampa da paolo gozzi direttore di corse di moto ex collaboratore della gazzetta dello sport sono stato processato e sono stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste durata del procedimento sette anni unica colpa aver chiesto di essere pagato per il mio lavoro da un giornalista potente non ho accettato le intimidazioni e paolo gozzi è stato condannato in via definitiva a pagarmi per il mio lavoro volete la storia e io ve la racconto